il punto sulla crisi economica e sociale che è stata accelerata e approfondita dall'eruzione della pandemia e che ha picchiato molto duro sulle classi lavoratrici già profondamente segnate da 40 anni di attacchi neoliberisti, ma anche sui settori più fragili delle classi medie per le quali si sta materializzando l'ospetto della rovina. Siamo consapevoli che le classi dominanti proveranno ad approfittare di questa recessione globale e della crisi che si è aperta per condurre ancora di più a fondo un attacco ai diritti e alle condizioni di vita e di lavoro di larghe masse della popolazione, ma siamo anche consapevoli che una risposta di classe che voglia avere un minimo di efficacia non può essere confinata nei singoli paesi, ma deve acquisire un respiro fortemente internazionale, ma anche internazionalista, cioè con la capacità di stringere legami politici e sindacali oltre le frontiere e ponendosi all'altezza della sfida del nemico comune, che è una sfida internazionale nella quale il nostro avversario di classe sta provando a coordinarsi e a capire come uscire ancora più rafforzato da questa situazione. E quindi per impostare questa risposta è importante conoscere la condizione sociale di diversi paesi, capire che reazioni ci sono state dal punto di vista politico nei paesi colpiti e capire se ci sono le condizioni, e noi ospitiamo fortemente che ci siano e lavoriamo per questo, affinché si possa creare una vera e propria campagna europea per costruire un programma di emergenza sociale. Adesso comincerei subito a dare la parola al primo nostro ospite, che è Andreu Col, che è un militante di anticapitalistas dello Stato spagnolo. Ad Andreu voglio cominciare subito a rivolgere la prima domanda, che riguarda gli effetti sociali delle misure prese dal governo dello Stato spagnolo per contrastare l'epidemia. Quindi che condizione economica e sociale c'è oggi a seguito di queste misure nello Stato spagnolo, Andreu? Buonasera, grazie compagni e compagni dell'invito e saluti di anticapitalistas. Infatti per riferimento alla pandemia stessa oggi i dati dicono che avevamo più o meno 230 mila casi, da cui sono stati confermati con il test PCR. 27 mila morti e poi 144 mila pacienti dimessi. Poi quello che è una delle cose le più amare di questa pandemia è stato un vero massacro nelle case di riposo, dei vecchi, dove circa la metà alcune regioni sono stati morti dalla pandemia e questo ha sollevato il fatto che tantissime di queste case sono gestite dai gruppi di inversori e sono anche convenzionate dallo Stato e danno un pessimo servizio ai vecchi e adesso con la pandemia è stata una vera strage. Ovviamente come ovunque credo la preoccupazione maggiore della popolazione è proprio le ipoteche, pagare le ipoteche, gli affitti e riforzare il sistema di salute dopo tantissimi anni di politiche d'austerità e poi ovviamente il lavoro è un reddito basico o di cittadinanza per la sopravvivenza, perché secondo il Fondo Monetario Internazionale la Spagna perderà oltre 8% del PIL quest'anno e forse la disoccupazione arriverà al 20% in 2020. Quali sono nel mio avviso le preoccupazioni centrali per la sinistra in questo quadro? Da una parte c'è il pericolo dell'autoritarismo, il ruolo e il protagonismo dell'esercito, della polizia con lo stato d'allarma, un cambiamento nella percezione popolare del ruolo delle forze repressive dove si hanno arrestato cittadini col confinamento e quello ha legittimato anche dibattiti sulla sorveglianza elettronica per esempio con i cellulari e poi nel caso spagnolo questo si aggiunge a una legge che si chiama la legge Bavaglio che viene approvata da Rajoy per reprimire anche le mobilitazioni contro i tagli e le misure di austerità. E peraltro c'è anche il nazionalismo perché ci sono appelli costanti all'unità nazionale, appelli a lottare a una guerra da parte dei poliziotti militari, un po' come il nuovo Bonaparte e Macron in Francia diciamo. Alla fine un ambiente politico mi pare di accettazione della politica del male minore di fronte all'ascesa della strema destra e la paura di un governo di destra sostenuto dalla strema destra. E questo mi pare anche il quadro complessivo sociale e politico che avevamo all'uscita della chiusura del paese, del confinamento. Ok, abbiamo ancora un paio di minuti. Andreu, magari ci vuoi dire qualcosa in più anche sulla condizione sociale che oggi vive il paese, che vivono i lavoratori, le lavoratrici? Sì, è molto drammatica dal punto di vista delle centinaia e migliaia di lavoratori che hanno andato in cassa di integrazione, eccetera. E poi ci sono anche tantissimi lavoratori che hanno perso direttamente il lavoro, in particolare nei servizi, ristoranti, bari, tutto quello che è in legame col turismo, eccetera, che è molto importante anche in Spagna. E le città come Barcellona in particolare sono molto colpite da questo punto di vista. E tutto ci dice che la situazione di questo stato sarà ancora peggiore perché quest'anno non ci sarà la possibilità di compensare col turismo e la manca di attività economica dopo due mesi di pandemia. E dal punto di vista delle resistenze sociali è molto difficile nel quadro di questa pandemia la mobilizzazione, perché ovviamente c'è questo quadro di chiusura dove è molto difficile organizzare un'azione collettiva. Va bene, poi lo affronteremo nella seconda domanda. Ti ringrazio, Andreu. Pongo la stessa domanda a Flavia Verri, che è una militante di ensemble che fa parte degli insumi che hanno sostenuto Melanchon alle ultime elezioni presidenziali ed è professoressa in un liceo tecnico, sindacalista della CGT e anche un membro di ATTAC. Tante cose, Flavia. Ti ringraziamo innanzitutto di essere qui con noi stasera. La domanda è la stessa che ho fatto ad Andreu. Riguardo agli effetti sociali delle misure prese dal governo francese per contrastare l'epidemia. Per cominciare ringrazio Sinistro Anticapitalista per l'invito, che mi sembra molto importante infatti di fare queste correlazioni tra i nostri paesi che vivono più o meno la stessa situazione. Allora, in Francia come in Spagna il rischio principale per il popolo è che quello che noi chiamiamo il giorno dopo sia ancora peggiore del giorno prima della pandemia, chiaro. Questo è in ogni caso ciò che prepara il potere macronista, alleato alla borghesia e del patronato. Il suo governo di shock, in guerra, come dice Macron, si è adottato fin dall'inizio del lockdown dei pieni poteri per portare a termine il suo progetto di distruzione sociale di massa e si caratterizzica con un autoritarismo che si è amplificato, con leggi e liberticide, una repressione che ci sono rafforzate. Il governo si è concesso pieni poteri e la possibilità di promulgare leggi senza passare attraverso l'Assemblea e in secondo punto un'accentuazione delle politiche ultraliberali di distruzione dei conquisti e di diritti sociali come risposta alla crisi sanitaria. E dunque le conseguenze. È un deficit inedito del bilancio dello Stato e della sicurezza sociale, perché è lo Stato che sta pagando l'86% del salario dei 12 milioni di dipendenti per uno o due mesi. Vi è dunque socializzazione delle perdite, ma rifiuto di prevedere la minima nazionalizzazione strutturale, secondo per gli operari sanitari e assistenziali, premi invece di valorizzare i salari e parallelmente lo smantellamento della sanità pubblica continua in piena pandemia, senza contare che il governo prevede di eliminare i vincoli ambientali per rilanciare l'economia. L'ambiente non è il suo problema, quindi il mondo di dopo dei macronisti non fa che amplificare la barbaria. E noi ovviamente opponiamo la sobrietà energetica e l'uscita dal produttivismo. Le conseguenze sociali sono moltiplici. Per caratterizzare la situazione sociale si può dire che il confinamento alla francese ha fatto che esacerbare la disparità sociali. Le disparità sociali. Sono esplose la povertà e la fame. C'è pure un prefetto di uno dei dipartamenti più poveri del Francia che temeva addirittura delle sommosse della fame. Sono stati abbandonati senza diritti, senza tetto, stranieri, detenuti. Sono stati, come in Spagna, lasciati morire in massa gli anziani colpiti dal covid nelle case di riposo. E' stato banalizzato il rassismo di Stato. Durante il primo mese di isolamento, gli scontri tra la polizia e la gioventù hanno avuto luogo. I quartieri popolari sono stati i primi colpiti dalla brutalità della polizia. E' stata ignorata qualsiasi politica di prevenzione e di sicurezza delle donne vittime di violenza domestica. Le poche cose positive in questo contesto sono, ce ne sono meno male, una rabbia sociale e politica che si è espressa nei social network e negli applausi degli eventi. Si è sviluppato e messo in atto un vero e proprio slancio di solidarietà per le mascherine, per la distribuzione di alimenti e prodotti per l'igiene, gratuiti. Ci sono moltiplicate le denunce giudiziarie contro ministri da parte di operatori sociali, rappresentanti locali o singoli individui. Il potere è indebolito, è diviso, non ha quasi più la maggioranza assoluta all'Assemblea nazionale, per esempio. E soprattutto, per finire, da questa settimana, è una cosa molto positiva, che gli operari sanitari e assistenziali riprendono la voce della mobilitazione davanti e dentro gli ospedali per richiedere un piano di emergenza per l'ospedale. Grazie, grazie anche a te Flavia. Chiedo a David la stessa cosa, cioè a David Kellogg, che è un militante di Socialist Resistance, è un'organizzazione anticapitalista che lavora dentro i Labour Party e che ha anche avuto un ruolo nella campagna elettorale di Jeremy Corbyn. Chiedo anche a te, David, quali sono gli effetti sociali in Gran Bretagna, delle misure prese dal governo per contrastare l'epidemia? Qual è la situazione sociale oggi nel paese? Buonasera a tutti e a tutte. Cominciamo prima con i morti, perché i morti sono l'effetto più importante di tutti gli effetti sociali. La settimana scorsa, alla conferenza di stampa giornaliera del governo, la tabella indicando i morti di altri paesi scomparve, scomparve, della presentazione. Perché? Perché? Oggi la Gran Bretagna ha subito più morti di tutti i paesi, tranne che gli Stati Uniti. Dall'inizio il governo si compiegeva di paragonare con l'esempio della sfortunata Italia. Ma adesso il governo dice che non si può paragonare i paesi in quanto sono tanti diversi. Il governo sostiene che questo paragone è troppo complicato. All'inizio, un consigliere scientifico del governo prevedeva che si sarebbero avuti 20.000 morti e questo sarebbe stato un successo. Adesso siamo a 33.000 su cifre del governo. 40.000 secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica e 50.000 secondo un giornale serio come i Financial Times. E come mai tanti morti? Come mai? Ci sono sei regioni. Primo, c'è una teoria sbagliata dell'immunità di greggia. È chiaro che i padroni piacciono questo, perché così la gente continuano a lavorare. Per questo motivo la quarantena ha stato ritardata di tre settimane, tre settimane dietro. Secondo, la politica di austerità, Italia continua da dieci anni. Questo ha fatto sì che il numero di posti per la cura intensiva nell'ospitali sono stati molto meno che in Germania, come anche il numero di infermieri e dottori. Con questa politica, i costi di una preparazione seria per la pandemia, per esempio mantenere un stocco grande di dispositivi di protezione individuale, DPI, è stato visto come un spreco, un spreco di soldi. La mancanza di DPI ha causato molto morti, la mancanza di personal protection. Terza ragione, la politica dei conservatori, ma anche di Blair, che la legge del mercato è superiore in efficienza che il funzionamento del settore pubblico. Consiglio, c'è l'entrata delle grosse cooperazioni nella sanità per funzioni specificamente dove c'è approfitto facile, rilevantissima per la crisi attuale e le distruzioni del sistema sanitario locale. La struttura di base, che adesso sarebbe stata usata per fare i tamponi, per tracciare i contatti, questo non esiste più perché è un'attestrutto. Quattro punto. I fondi per la casa di riposo per gli anziani sono stati ridotti da molti anni. Quasi tutti questi casi sono nella mani dei privati, inclusi di entità finanziarie, speculatori, hedge funds. E questi casi sono autonomi, sia del sistema sanitario locale o sia del quale nazionale. Per questo si parla di 40%, 40% di morti solo nelle case di riposo. Questa è una cosa che si vede in Spagna e in altri posti anche. Peggio ancora, gli ospitali hanno rimesso un numero importante di anziani conteggiati nelle case di riposo. È successo anche in Italia questo, in Lombardia. Quinto punto. I pianificazioni e strutture statali sono stati ignorati dai successivi governi neoliberali conservatori. Solo due anni fa c'era una commissione, si chiamava Signus, che ha avvisato il pericchio di pandemia, ignorato di governo. Sexto punto. Anche adesso, nel mezzo della crisi, il governo preferisce dare grandi contratti a Deloitte, Capito Circle, alla grande compagnia di commercialisti e al sourcing, per i tamponi, per le nuove applicazioni digitali, anziché al settore pubblico. Oggi, il Guardian, giornale serie inglese, expone che una dita americana, Moviano, è stata responsabile per lo stock del DPI. La sua gestione durante la crisi è stata disastrosa e l'esercito britannico ha dovuto venire a soccorso. Allora, i morti mostrano un'altra realtà, che noi non siamo tutti nella stessa barca, come dice il governo, dice i giornali in continuazione, we're all in this together, nella stessa barca. Se uno o uno è nero, di origine asiastica, o un operario di stipendio basso, o un disabile, una e quattro a cinque volte più vulnerabili alla morte. I giornali inglesi hanno fatto un lavoro abbastanza buono nel raccontare la storia dei morti. Si vede subito, con tutte queste foto, per esempio, come fra i cento morti del personale sanitario, molti, più di metà, sono di origine non bianco. Alcuni, con permesso di migranti, devono anche pagare 600 sterline all'anno a testa per la famiglia, per il diritto a usare la sanità. È ironico pensare che la gente contro cui la testa dei Brexit ha mobilitato per vincere la loro battaglia sono proprio quelli negli ospitali, nelle case di riposo, come conduttori di bus, come autisti di consegne, etc. Loro sono morendo, anche correndo e mantenendo il funzionamento della società. Per loro non c'è stata quarantena. La maggioranza anche non guadagna abbastanza per qualificarsi per il permesso di lavoro nel progetto di governo post-Brexit. Questi qui non guadagnano più che 20.000 sterline all'anno. La quarantena non è uguale per tutti e tutte. Se uno lavora a casa con computer, è meno pericoloso e duro che continuare ad andare al lavoro. Se uno ha una casa grande con giardino, è meno passante che una famiglia che vive in un appartamento piccolo senza giardino. Per le donne c'è un rinforzo di doppio e triplo lavoro, a computer per la dita, edicare i bambini online e pulire i preparati a mangiare. E anche i morti della violenza contro la donna è raddoppiato. Molti operai, soprattutto con lavori peccati, non ricevono la casa di integrazione eccezionale che ha fatto il governo all'80%. Per loro, questi che non ricevono questo, c'è il sostegno dell'affitto e il 94 sterline alla settimana. Non è sorpresa, non è una sorpresa, che la menza dei poveri, si chiama food banks in Inghilterra, i banchi di cibo, sono raddoppiato. Si dice che un milione e mezzo hanno passato un giorno senza mangiare. Ci sono alcuni effetti sociali più positivi. Come ha detto già Flavia, la rete spontanea di aiuto organizzato sui social media è impressionante. Spesso c'è una connexione come militanti dei partiti lavoristi e queste rette. Anche il governo ha riuscito a reclutare un milione di volontari. Tutti quanti hanno riconosciuto che l'aria è più pulita e la natura respira meglio. La gente prende di più la bici o va a piedi. È possibile che i viti sono stati anche salvati grazie a questo cambiamento. C'è un sondaggio recente che rivela che il 60% vogliono che la salute e il benessere deve essere la priorità piuttosto che la crescita economica nel piano post pandemia. Il fatto è che è molto più difficile per il governo adesso dire che non c'è l'arbero magico dei soldi. Questa è sempre la loro linea che non c'è l'arbero magico dei soldi per dare la sanità per la scuola. Non può più dire queste cose. Per questo governo, il conservatore, sta pagando 80% del stipendio a 7,5 milioni di lavoro operai. È una cosa che uno non avrebbe pensato mai. Si trova subito i soldi per la sanità o per la casa di riposo. Bisogna dare soldi anche alla casa di riposo. Il problema è fino a quel punto. Fino a quel punto questo senso comune diventa un spunto politico positivo. È difficile a sapere. se questo senso che le cose non possono essere come prima. Se questo trasferisce una mobilizzazione politica è un'altra cosa. Forse, punto finale, forse è una cosa britannica, però anche c'è stata una mobilizzazione per raccogliere i fondi per la sanità, soprattutto. Tante persone che si sfidano, anche se è un po' ridicolo, per raccogliere i soldi. Per esempio, un veterano della guerra di 99 anni che ha camminato nel suo giardino centavolte ha raccolto 35 milioni di sterline. Ma il problema è che secondo me questo fenomeno è molto più ambiglio perché si integra una narrativa di una forza nazionale, come ha detto Andrew, che c'è questa narrativa che noi i bravi britannici poi battere i virus come nella seconda guerra mondiale, capito? Che con Johnson, che anche è stato malato, che noi possiamo fare questo recupero, anche fuori Europa. E questa è una narrativa abbastanza forte, che va a lato di questa altra narrativa su noi possiamo cambiare. Questo è tutto sull'effetto sociale. Grazie, David. Passiamo al secondo giro di domande. Cominciamo di nuovo da Andrew. La seconda domanda è questa. Qual è la posizione politica delle forze politiche dominanti della borghesia e qual è la risposta, se c'è, delle forze politiche sindacali della sinistra? Sì, purtroppo la risposta per il momento è assai debole, ma in particolare per riferimento agli apparati sindacali, perché al di là della situazione è molto difficile, perché uno di ogni tre lavoratori ha perduto il lavoro sia in cassa di integrazione. In questo quadro purtroppo al di là della sinistra sindacale che ha fatto delle critiche forti, ha chiamato ai shopperi all'inizio di una quarantena contro l'attività nell'industria che non chiudeva, come mi pare che è stata la stessa dinamica in Italia. Al di là di loro purtroppo le direzioni sindacali dei grandi sindacati ha avuto un ruolo diciamo assai conservatore per rapporto al governo eccetera. E veramente sì, all'inizio della quarantena c'erano qualche shopperi più o meno spontanei in fabbriche per chiudere l'attività come nella Mercedes a Pamplona per esempio, ma c'è un quadro politico più generale di attentismo politico legato alla formula di governo di coalizione. Infatti come sapete Unidas Podemos è entrato nel governo Sanchez col PSOE in una logica molto simile a quella di rifondazione in 2006 entrando nel governo Prodi 2 con al nostro avviso conseguenze così catastrofica a mezzo lungo termine e poi quello ci pare che chiude un po' il ciclo politico dello scopio della rivolta degli indignati in 2011 e anche pesa molto negativamente la claudicazione di Tsipras in 2015 perché infatto nella stessa involuzione direbbe della direzione di Podemos e quella adattazione governista subordinata al social liberismo e questa claudicazione di Tsipras ha avuto un ruolo sulla diciamo l'impostazione strategica complessiva della direzione di Podemos come sapete ieri avevamo ufficializzato la nostra spaccatura l'abbandono da quel progetto perché le divergenze strategiche eravano troppo troppo grandi per giustificare ancora un ruolo diciamo di opposizione interna da nostra parte in quanto in questo quadro c'è anche un'offensiva della destra e della strema destra come sapete le elezioni politiche scorse hanno registrato una crescita della strema destra come sapete Vox è una spaccatura a destra del partito popolare è molto influenzato dalla pressione del trumpismo americano e vuole anche applicare nel quadro spagnolo quelle stesse ideologie quelle stesse tecniche di agitazione di fake news eccetera allora in questo quadro il partito socialista il governo Sanchez parla molto di rinnovare un patto come quelli patti della Moncloa dopo nella transizione all'inizio della transizione politica post franchista dove c'era un genere di logica diciamo di compromesso storico dove diciamo che il movimento operaio e i partiti operai in particolare il partito socialista ma anche il PC hanno entrato in una logica di diciamo di contenzione dell'inflazione che era il problema associato alla crisi mondiale degli anni 70 e infatti anche alla cesa del movimento operaio alla fine della dittatura franchista che aveva conquistato la democrazia e importanti diritti sociali in quel periodo quello si è fatto in nome della consolidazione della democrazia come sappiamo anche in Italia questa logica di compromesso storico è sempre una catastrofe per il movimento operaio a lungo termine ma oggi purtroppo non c'è un movimento operaio così forte a contenere e la chiave della situazione politica non è l'inflazione ma è il debito in questo e anche poi qui c'è una questione politica che Podemos utilizza per giustificare la sua presenza nell'esecutivo spagnolo che è quella del reddito di cittadinanza come chiave diciamo per giustificare la sua impostazione governista ma per il momento questo rimane una promessa dell'esecutivo ma non c'è nessuna sicurezza che questa misura va avanti anche nel quadro drammatico di questa pandemia e questa crisi economica e in questo quadro purtroppo le burocrazie sindacali che sono anche direttamente impegnate nel governo c'è qualche ministro che viene direttamente della burocrazia delle commissioni sovreras e adesso loro giocano un ruolo più conservatore che in situazione normale tra virgolette e soltanto a livello generale soltanto c'è un'iniziativa che mi pare molto interessante che è quella del sciopero di affitti un sciopero dove hanno partecipato oltre 15 mila persone ed è un'iniziativa del sindacato da inquilini e la piattaforma di affettati dall'ipoteca dove viene infatti la sindaca da Barcellona come sapete Colau che è un movimento da tanti anni molto forte e molto radicato nei quartieri popolari e un'iniziativa del genere non si faceva dagli anni 30 quando viene lanciata dalla CNT il sindacato rivoluzionario dell'epoca è anarchico allora questo mi sembra un'iniziativa molto interessante c'è legato a questi gruppi anche la sinistra sindacale un fronte per una risposta di shock alla crisi e loro hanno in testa questa lotta contro ogni possibilità di un nuovo consenso neoliberista e austeritario che infatti con questa possibilità che ha posto il governo di dibattito nazionale ed è nuovo compromesso storico liberista diciamo e qui c'è uno strumento per fare una lotta contro questa logica di unione nazionale dopo dopo la pandemia e per quanto riguarda la borghesia comincia a mobilitarsi anche contro il governo diciamo detto social comunista e sostenuto dagli separatisti indipendentisti per esempio alcune ieri il giorno prima c'erano mercoledì c'erano mobilitazioni in piazza nei quartieri più chic borghesi di Madrid al grido di libertà che mi ricordava un po' quelle mobilitazioni a Caracas contro il chavismo un po' l'estrema destra storica che si mobilizza in nome della libertà per finire con la quarantena allora la situazione a livello politico è molto più calda diciamo che non a livello sociale purtroppo e per il momento a livello popolare è molto più difficile di mobilizzarsi e vedremo ma in ogni caso questo è un po' il quadro generale ecco grazie andremo grazie mille ci hai fatto un quadro molto chiaro tra l'altro noi in Italia insomma abbiamo un'idea di che vuol dire la descrizione che ci hai fatto anche dal punto di vista politico diciamo non l'abbiamo passata prima allora faccio la stessa domanda a Flavia appunto quali sono le posizioni politiche dei partiti delle classi dominanti in Francia e qual è la risposta se c'è delle organizzazioni politiche e sindacali della sinistra bene in Francia la situazione è caratterizzata da un accumulo di lotte sociali per diversi anni in particolare quelli dei gilet gialli e la mobilitazione contro la riforma delle pensioni e assolutamente questo accumulo non è sparito mentre eravamo in lockdown ma è interessante vedere come hanno reagito i sindacati per quanto riguarda questa reazione dei sindacati alle misure governative in questo contesto di pandemia si può parlare di due polli in effetti il campo sindacale francese molto indebolito è diviso tra da un lato un sindicalismo di accompagnamento delle politiche liberali con la SFDT si chiama primo sindacato nel settore privato è importante saperlo e dall'altra parte un sindicalismo più combattivo con la CGT la FSU e Solidaire e dunque attualmente la divisione è tale tra questi due polli che la CFDT è arrivata a firmare un appello per la ripresa di attività con il MEDEF che è l'equivalente di Confindustria e ha denunciato pubblicamente le azioni legali della CGT che stava difendendo le condizioni dei lavoratori e come dice stava domandando che si smette il lavoro quando ha cominciato il lockdown allora in questo contesto inedito bisogna sapere un po' il processo il movimento sindacale non ha visto arrivare la crisi e non ha previsto la sua gravità questo è un fatto c'è stato un vero ritardo nella messa in moto ma nonostante la distruzione in corso del diritto del lavoro i salariati e i loro sindacati hanno potuto cogliere ciò che ne resta per proteggere la loro salute in particolare col cosiddetto diritto di ritiro che ha permesso la chiusura di diversi siti di lavoro sia pubblici che privati all'inizio del lockdown come in Italia e altri paesi ma la reattività e l'adattamento al contesto sono proseguite le riunioni a distanza dei gruppi sindacali le riunioni a distanza delle istanze che associano rappresentanti del personale dei datori di lavoro in tempi relativamente brevi sono state istituite strutture giuridiche sono stati elaborati documenti informativi sui diritti orari di lavoro telelavoro licenzamenti e sono state condotte indagini per determinare le condizioni di lavoro in questo contesto il telelavoro in Francia ha riguardato più di 5 milioni di dipendenti ed è stato vissuto come una condizione di lavoro degradata e attualmente le centrali sindacali desiderano delle trattative per inquadrare meglio il telelavoro e che è ancora di attualità globalmente la posizione generale dei sindacati di lotta è stata buona attenzione alla protezione sanitaria contestazione delle misure di regressione proteste di misure d'urgenze per i più precari e soprattutto l'importante è la questione del giorno dopo che è soprattutto involta la riduzione dell'orario di lavoro perché bisogna sapere non l'ho detto nella prima parte ma il governo ha adottato come gli altri paesi delle misure di derota al codice del lavoro con la durata massima del lavoro è stata aumentata fino a 60 ore settimanali la durata del riposo è stata ridotta e il lavoro domenicale è stato lui facilitato bisogna anche fare una piccola parentesi sulla questione della scuola perché il governo ha utilizzato i bambini come un un strumento per fare riprendere il lavoro alla fine del lockdown in fin del confinamento e questo è stato capito non solo perché i sindacati l'hanno spiegato ma anche le persone che non sono sindicaliste hanno capito che era un'instrumentalizzazione dei bimbi perché se vanno a scuola si può liberare i lavoratori che può andare a lavorare per finire la questione più attuale dopo il scongelamento è la lotta contro la distruzione accelerata del diritto di lavoro e della sicurezza sociale il problema in Francia è stato la difficoltà a pensare a un'iniziativa di visibilità fuori delle reti sociali c'è avuto delle bandierine sui balconi particolarmente il primo maggio ma non così grande e le mobilizzazioni quello che dicevo per concludere la prima parte potrebbero riavviarsi nel settore sanitario ci sono già stati raduni o passeggiate il primo giorno del scongelamento e soprattutto ieri anche abbastanza mobilizzazione in volta a questo sulla questione politica più concretamente diciamo che quando parlerò più delle perspettive rientrerò magari più nel dettaglio ma ci sono delle molti appelli che si stanno sviluppando ma bisogna sapere una cosa le tentativi prima del governo Macron che voleva fare un governo di unione nazionale ma le divisioni sono arrivate e non c'è riuscito c'è sempre l'estrema destra con il rassemblement nazionale di Marine Le Pen che dall'inizio ha denunciato le bugie e le incoerenze del governo e Marine Le Pen esce un libro che si chiama il libro nero della crisi sanitaria è l'unica dirigente che il primo maggio è uscita fuori in via e questo è un vero problema e del lato dei partiti politici diciamo social-liberali o eco-liberali i verdi come il partito socialista hanno ancora questa matrice di allianze liberali è veramente un problema ma parlerò più della sinistra magari nella parte dopo grazie perfetto grazie la stessa domanda allora a David che prego di essere un pochino pochino più breve rispetto alla prima risposta la domanda è la stessa quali sono le posizioni politiche dei partiti della borghesia in Gran Bretagna e qual è la reazione delle forze politiche sindacali della sinistra prego David ok la fase 2 che è cominciata questa settimana ha mostrato alcune differenze tra le classi dirigenti sulla politica di seguire per uscire dalla quarantena una minoranza nella direzione del governo vuole essere più aggressivo nell'abrile la produzione c'è anche un lobby che fa molta pressione dei settori più a rischio nel futuro come l'aviazione turismo ottomanica automobili non è solo il permesso per abrile ma anche quanti fondi che richiedono della Stata c'è anche già un dibattito per come sarà essere pagato il debito che cresce su base delle case indicazioni prestiti sostegno eccetera la destra non vuoi che i ricchi o le ditte pagano i tassi più grandi preferiscono un altro periodo di austerità stipendi congelata tagli eccetera un altro problema per le coberghese britanniche è la realtà del nazionalismo scolzese e nella menore fassone di Galles Galles e Scossia e anche Irlanda di Norte ma quella è un altro unionista non ha adottato la misura della fase 2 di Johnson per esempio loro non hanno cambiato lo slogan stay home resta a casa perché il nuovo slogan da qui è stay alert resta a guarda Brexit ha già indobolito questo rapporto Scozia e lo Stato britannico la pandemia ha accelerato questo processo comunque Johnson per il momento capisce forse anche un effetto di essere stato malato di Covid che un'uscita troppo veloce può produrre un'altra salita e un'uva quarantena con conseguenze ancora peggiori per l'economia capitalista anche secondo me Johnson non attaccherà subito la spessa della sanità dopo due mesi dell'applauso per gli eroi dell'NHS e mobilizzazione della benevalenza è politicamente impossibile secondo me per prendere questa strada almeno per un bel po' di tempo un avvantaggio per la borghesia in questo momento è il costo basso un costo molto basso di lasciare dei bond e di fabbricare i soldi come si dice in inglese quantity divising si può fare abbastanza facilmente non è necessario dettagli tutto subito allora è probabile che si avrà una strategia combinata come quella di dividere e regnare a tale che alcuni settori e non altri allo stesso tempo Johnson vuole combinare il discorso della forza nazionale dei vinciti contro i virus con la narrativa della Gran Bretagna indipendente libera dell'Unione europea il successo di questo progetto dipende su almeno due fattori uno che il numero di morti comincia a scendere due la capacità del Labour non concorre con il leader ma come più moderato che Stammer parliamo adesso di Labour Stammer il nuovo leader del partito è un avvocato è laudato molto di essere forensico nelle questioni al primo ministro un ricerario del Parlamento inglese ogni mercredì di fare queste e queste questioni infatti recentemente quando lui ha dimostrato che il 28 febbraio il governo pensava che l'epidemia non arrivassi nelle case di riposo lui ha mostrato come Johnson non è ben preparato e come Trump dice bugia però allo stesso tempo tutto che dice Stammer è messo nella stessa narrativa del conservatore è un crisi nazionale senza precedente siamo un'opposizione costruttiva e leale appoggiamo il governo quando fa bene e critichiamo quando fa male non c'è rabbia non c'è narrativa politica alternativa che può mobilizzare la gente e preparare una politica alternativa mentre sulla fase 2 il gruppo di 17 diputati lavoristi ancora covenisti incluso Coven si chiama Associates Campaign Group ha riusciato una declarazione definendo la politica di Johnson di aprire la produzione troppo veloce come un atto di guerra di classe Stammer ha centrato il focus sulla mancanza di chiarezza nella manovra non tanto su contenuto altro esempio sulle emissioni televisi il ministro d'ombra per la colonia ha spiegato più o meno come la politica di austerità ha fatto la pandemia molto peggio per lei questa politica non vuole puntare la ditta al ministro conservatore Osborne che stava lì seduto accanto a lei nella dibattita è molto difficile in questo momento per i 500.000 militanti dei partiti laboristi di rispondere alla crisi la direzione ha chiuso i partiti le sezioni non possono tenere riunioni ufficiali o promuovere mozioni per il congresso dove la sinistra è forte come da noi teniamo riunioni su Zoom che sono informali nel sondaggio recente dei militanti laboristi 62% erano critici della linea troppo moderata di Stammer infatti adesso come conseguenza di questi tipi di cose Stammer ha adottato un tono un po' più compatibile allora allo stesso tempo Labour non fa appello a una rivendicazione minima quale di un'inchiesta pubblica ufficiale alla fine di crisi a livello di fabbrica o nell'ufficio non ci sono state molte azioni per difendere la sicurezza sanitaria sul lavoro la confederazione sindicale ha fatto da tramite per la fase 2 e non è riuscita a avere alcune concessioni di parte di governo ci dobbiamo ricordare che questo governo per molti anni non ha fatto nessuna negoziazione come sindicato infatti ho letto oggi che la confederazione ha proposto essere dentro un tipo di consiglio nazionale per ricostruire il paese che ha molti problemi il problema con l'accordo su fase 2 è che tutto dipende sulla forza di sindicato sul posto di lavoro nel privato i sindicati sono molto deboli molto più deboli che nel settore pubblico non è un sorpresa che la contestazione più forte è fra gli operai di ferrovia e il maggiobritano e gli insegnanti un grande bellezza di fase 2 è la difficoltà di mantenere due metri di distanza tra le persone su treni o mezzi pubblici è impossibile il sindicato di ferrovia minaccia la fermata dei treni si sono strapieni per gli insegnanti i sindicati hanno espresso un grande riserva sull'apertura delle scuole per i bimbi di 4 a 5 anni e di 10 anni il primo giugno infatti uno dei sindicati di insegnanti propone un'azione legale se questa apertura passerà oggi c'era un tramite fra questi sindicati secondo me c'è ancora una rottura chiaro è importante per i padroni per avere le scuole perché loro hanno bisogno della scuola per liberare i genitori fino ad oggi non ce l'accordo infatti questo è interessante che Starmer non ha fatto un grande appoggio ai sindicati di insegnanti ha fatto un po' fuori di queste discussioni non ha detto chiaramente questa è un'idea molto cattiva di aprire la scuola a 4 a 5 anni come si può impedire i bambini di 4 a 5 anni a non metterli insieme finalmente la sinistra del partito della balista e la sinistra fuori dell'eber sono molto attive sulla riunione Zoom sulla social media per esempio uno può partecipare alla riunione Zoom 3, 4, 5 volte al giorno se vuole non è impossibile però la sconfitta di Covid e del suo progetto ha avuto un impatto sulla capacità di queste sinistrate un bel fette di governisti sono trasferiti a Stam dal punto di vista realista di appoggiare uno che può essere il primo ministro però la sinistra radicale rivoluzionaria che è molto diviso sta cercando su quale tema si può meglio organizzare la resistenza alcuni di questi temi si va a parlare sulle terze questioni in più dettagli sulla Green New Deal la transizione verde disoccupazione e servizi di passi universali gratuiti o un stipendio universale c'è un dibattito su questo anche e la garanzia dei posti di lavoro questo è tutto sulle seconde questioni benissimo benissimo grazie David diciamo che adesso arriviamo al punto caldo insomma il cuore di questa di questa iniziativa e cioè secondo i nostri interrogatori e la nostra interlocutrice Flavia quali sono le possibili iniziative internazionali su scala europea perché è vero che ovviamente dobbiamo costruire le iniziative chiaramente su scala nazionale nei nostri territori ma non dobbiamo mai perdere di vista la dimensione continentale dello sconso di classe che è una dimensione essenziale e indispensabile allora parto parto da Andreu Andreu secondo te quali sono a tuo avviso le possibili iniziative che le sinistre di classe in Europa possono prendere Sì infatti noi da anticapitalista stiamo lavorando su un'iniziativa per definire una tassa di emergenza Covid-19 su scala europea perché ci pare che occorre uscire all'offensiva di questa crisi per evitare una ripetizione della logica di gestione austeritaria che avevamo subito dopo la crisi del 2007 2008 con la Supreme a livello mondiale eccetera e infatti come si l'impatto di stabilità e crescita europea viene viene sospeso quello mostra la fragilità un po' della situazione ed offre una possibilità di sviluppare iniziative offensive per evitare questa nuova ondata di politiche regressive e antisociali e come ha permesso aumentare il livello di deficit senza la minaccia di sanzioni da parte dell'istituzione europea crediamo peraltro che bisogna una risposta come dicevi tu prima coordinata a livello internazionale europeo e anche l'Unione europea ha dimostrato un'incapacità di coordinare una risposta diciamo sanitaria ed economica alla crisi attuale per cui noi vogliamo esigere al Consiglio europeo l'applicazione di una tassa Covid per i bisogni più urgenti più attuali e se non c'è un accordo da tutti gli stati comunque coordinare quelli che decidono di farlo per questo noi proprio proponiamo e lo ha detto anche Emilio Urban con un articolo due settimane fa un sistema di tasse di emergenza Covid sui profitti delle aziende e dei grandi patrimoni organizzato dal tesoro di ogni paese e proprio proponiamo una tassa a tutti questi paesi per fare questo fondo solidario europeo amministrato coordinatamente dagli stati che prendono comunque la misura e questi risorsi sarebbero destinati dipendendo dell'urgenza sanitaria e sociale ai bisogni sociali più immediati e all'impatto della pandemia in ogni paese ma per che questo sia possibile immediatamente dobbiamo anche aumentare la spesa pubblica fare investimenti molto importanti nella sanità pubblica perché ha dimostrato che in ogni paese è l'unico sistema sanitario che è capace di rispondere a una crisi sanitaria del genere e contribuire a un cambiamento anche del modello produttivo perché c'è una questione che non si parla molto a livello dei media che è il rapporto tra questo tipo di virus questo tipo di malattie nuove e il modello di agrobusiness mondiale la riduzione della biodiversità a livello ambientale e lo sviluppo di megacittà che è totalmente insostenibile a termine e poi sappiamo che la pandemia ha già mobilizzato miliardi di euro che aggrava il debito enorme degli stati e avvorra il recupero economico e per cui crediamo che il Banco Centrale Europeo deve cancellare tutti i debiti degli stati membri riferiti alla pandemia comunque o in ogni caso trasformare il debito in debito permanente che non sia legato alle finanziarie attuali e poi anche c'è un bisogno assoluto di lottare contro i paradisi fiscali e vietare ogni aiuto alle aziende che hanno utilizzato i paradisi fiscali a livello europeo o al di là e poi bisogna anche permettere che la Banca Centrale Europea possa finanziare direttamente gli stati come fa la riserva federale americana o la Banca d'Inghilterra per cui bisogna rompere coi trattati europei e la camicia di forza neoliberista rovesciando questa Europa attuale questa Europa capitalistica ovviamente questa battaglia non basta con l'applicazione di questa tassa ovviamente la sfida è molto più larga ma crediamo che è molto importante che dobbiamo cominciare da qualche parte a fare delle proposizioni concrete e offensive che siano percevute dalle lunghe masse come cose giuste e realiste a corto termine a corto termine mi pare centrale diciamo o ci pare centrale ecco perfetto grazie chiedo la stessa cosa a Flavia secondo lei cosa cosa è possibile fare sul piano europeo quali campagne quali iniziative allora in realtà quello che viene di spiegare Andreu sono a 100% d'accordo non vorrei ripetere esattamente uguale penso che le principali misure che ha proposto sono le buone le tasse e tutto quello che ha spiegato ma volevo fare una piccola parentesi sulla situazione in Francia riguardo a questa possibilità di fare un appello internazionale perché in realtà in Francia questa esperienza ha portato qualche possibilità di fare degli appelli unitari già nazionali e non è così semplice già a questo livello e dunque noi pensiamo che è chiaro fare un appello deve avere l'obiettivo di mettere in movimento una campagna qualcosa che non sia soltanto chiaramente propagandista ma anche di agitazione e dunque pensiamo che bisogna un movimento capace di articolare e combinare le questioni sociali con le questioni ambientali perché la crisi ha mostrato la correlazione tra tutte e due la stessa cosa un movimento capace di incorporare l'esperienza delle organizzazioni politiche ma anche quelle delle associative sindacali e tale obiettivo dovrebbe passare attraverso la costruzione pensiamo noi di un fronte sociale e politico che proponga misure di emergenza un programma transitorio per un altro sistema ma come sempre qui in Francia i partiti politici da sinistra sono globalmente divisi e molto troppo preoccupati dall'agenda elettorale le prossime elezioni presidenziali si terranno nel 2022 e nel frattempo si terranno anche le elezioni comunali e regionali però diversi iniziativi in Francia vanno nella direzione giusta anche se sono ancora troppo fragili da diversi mesi ci stanno compiando tentativi di riavvicinamento riavvicinamento per esempio c'è stata un'iniziativa di un gruppo chiamato Big Bang dove Ensemble Insumista dentro che ha svolto un ruolo importante nell'impulso di un incontro unitario femminista di videoconferenza il 7 maggio passato scorso intitolato mettere fine al corona virile e ha avuto 27.000 partecipanti e dunque la questione femminista ha avuto un po' di visibilità e sarebbe un punto come dire anche per una campagna internazionalista sarebbe importante chiaro più recentemente con questa crisi sanitaria e questo è importante in Francia che rivela su larga scala i vicoli del sistema capitalista si moltiplicano e si radicano le aspirazioni a un giorno dopo diverso dal giorno prima e si sommano gli appelli e c'è stato un appello molto interessante iniziato da adesso ci sono trentune organizzazioni firmatarie e ci stanno dunque attacca dei sindacati come CGT FSU Solidare ma ci stanno anche in questo appello Greenpeace e Oxfam e ne parlo perché la sua importanza è dovuta al riavvicinamento inedito in Francia tra organizzazioni sindacali e ambientalisti che fino ad allora non lavoravano insieme e ha prodotto un testo molto interessante che articola misure d'urgenza e misure transitorie in questa situazione attuale e dunque mi sembra che è questo che dobbiamo costruire al livello internazionale queste cose inedite ma che sappiamo che sono per noi vitali e dunque per finire il nostro ruolo di ensemble insommi abbiamo avuto una riunione alla fine settimana abbiamo cercato a mettere un po' di misure nel piano di emergenza attuale e articolarlo con le misure transitorie che sono di medio praso non per lontano e pensiamo che la questione della salute dell'ospedale è prioritaria e che se bisogna fare una campagna internazionalista sarebbe nazionale e internazionale sarebbe questo il piano di emergenza e per completare quello che diceva Andrea per non ripetere le sue proposte noi parliamo molto della gratuità delle mascherine degli screening sistematici della protezione dei lavoratori dipendenti e degli utenti una campagna per proteggere le donne dalla violenza la regolarizzazione dei senza documenti dei migranti e un piano di emergenza per la sanità e questo articolato chiaro con le misure di transitorio di vieto di licenzamenti significativi aumenti salariari e soprattutto sobrietà energetica uscita dal produttivismo e un'altra fiscalità non faccio tutte le altre proposte già al livello europeo che Andrea ha fatto ma un appello internazionale è quindi del tutto opportuno e certamente abbiamo più richieste comuni tra noi e tra i nostri paesi che divergenze più che mai i lavoratori di tutti i paesi devono unirsi grazie 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 mille per la sua utile e importante proposta ora a David la stessa cosa è vero che la Gran Bretagna non è più parte dell'Unione Europea ma insomma i lavoratori non hanno padre non hanno paese non hanno nazionalità sono tutti i lavoratori e i lavoratori e noi dobbiamo provare a unirli ovviamente la classe operaria inglese ha una sua gloriosa e nobile tradizione insomma e speriamo che possa dare un apporto importante alla battaglia per costruire un'Europa diciamo anticapitalista e quindi David tu cosa pensi rispetto alla possibilità di iniziative internazionali su scala europea quindi anche oltre l'Unione Europea in questo senso infatti il nostro corrente ha sempre votato per rimanere nell'Unione Europea e per trasformarlo noi siamo stati contro il Brexit adesso la difficoltà è che la crisi è tanto diversa tanto vasta tanto profonda che trovare in nodo il focus della mobilitazione è difficile sia a livello nazionale o a livello europeo sono d'accordo con quella detta sulla questione di un Covid tax che uno deve lottare per questo a livello nazionale perché anche perché i tax non si fa a livello europeo però è una buona idea già in Inghilterra un governo laborista ha fatto come si chiama in inglese windfall tax una tasso eccezionale sulle banche è facile vedere quale dita grande hanno fatto tante soldi in questo periodo anche dentro la quarantena e può anche fare una tasso su quelli come priorità però io penso che deve essere come ha detto Flavia non può essere solo le domande economiche o sulla sanità deve essere anche sulle questioni importantissime quella ecologica perché questa pandemia non riconosce le frontiere e la crisi è soprattutto una crisi ecologica che tornerà se non c'è un cambiamento fondamentale del rapporto umanità natura e ci sono alcuni nella sinistra che sottestimano il fondo ecologico alla crisi si parla solo dei conflitti profitti salute o i tagli alla sanità questo secondo me è sbagliato allora un'iniziativa di sinistra internazionale deve mettere su un piano completo di transizione giusto giusto e verde the green new deal e già qualche progetto in America e altri paesi su queste cose anche i laboristi hanno fatto un green new deal con progetto e questo poi includerà alcune anche misure per cambiare la priorità nelle produzioni come meno aereo meno macchine e non il turismo e anche una trasformazione come ha detto Andrei nel settore agricolo per impedire i contagi dei patogeni negli animali salvatici alla mega fattoria con milioni di poli maiali e bovini nostri è di mettere condizioni su tutti gli investimenti per esempio c'è già un dibattito su dove deve andare questi fondi di Stato deve mettere questi soldi nella Ryanair EasyJet tutti questi dita o deve mettere condizioni anche se lo Stato mette soldi in queste cose lo Stato deve anche prendere potere dentro queste dita deve prendere le mani sopra queste cose in modo di cambiare la produzione e garantire lavoro lavoro al stesso stipendio non puoi fare queste transizioni veri senza fare queste misure e in certo modo già nella Unione Europea c'è un precedente di fare le cose sulla cosa ecologica perché in contrasto a altri paesi settori del mondo almeno alcune cose hanno fatto l'Unione Europea sull'ecologia allora c'è già una porta un po' aberta per premere chiaramente un'altra cosa che nessuno ha detto fino adesso è sul vaccino è importante secondo me che questa è una cosa più immediata che noi dobbiamo organizzare per mandare un vaccino internazionale di cooperazione e deve rafforzare tutte le strutture internazionali per fare un vaccino che non deve essere una cosa di capitalista questo è importantissimo chiaro che sono d'accordo con tutte le idee sulla zona sul settore sanitario però c'è solo un altro aspetto che io devo parlare che nessuno ha parlato ancora e questo è suggerito di normi claim nell'articolo l'altro giorno che lei ha parlato di big tech queste grandi dite come google amazon twitter eccetera perché già in inglaterra già in gran britannia il governo ha dato i contratti per distribuire i dpi organizzare i tamponi contatti in tracciamento alla grandita di adsourcing e claim nomi claim parla di la stessa cosa con questi grandi dite che puoi offrire al governo una soluzione per il futuro che taglia i costi perché questi big tech puoi dare più screen time e usare anche l'intelligenza artificiale in modo di dettagliare i costi è applicabile e puoi applicare a tutti i settori di governo per esempio in inglese è possibile vedere amazon fare il lavoro di royal mail della posta e si può fare anche nell'educazione già con queste esperienze della pandemia la gente ha fatto molto educazione online è possibile che questo settore crescita e allo stesso tempo quello che è importante è che questa big tech allo stesso tempo di prendere questi settori per il guadagno può anche essere usata per monitoraggio per controllare la gente per dare al governo la possibilità di monitoraggiare come in Cina già per esempio noi invece ci batteremo per un' espansione del lavoro utile noi parliamo di lavori purple viola i lavori di servizio ma qualificato in modo che quelli che lavorano nelle casse di riposo non sono pagati a 9 sterline all'ora il minimo però sono pagati bene con una riqualificazione sono lavori umani utili e allo stesso momento devi parlare di una settimana di lavoro di quattro giorni già Labour nell'ottimo manifesto per le azioni politiche hanno parlato di settimane lavorative di quattro giorni e molte persone hanno detto questa è la fantasia che non è utopio però infatti con questa pandemia si vede la possibilità che tutti quanti lavorano meno giorni può essere più ecologico e più utile per la famiglia e tutti quanti allora queste sono le mie cose ok ringrazio David come ringrazio Andrea e anche Flavia per la loro testimonianza e le proposte che hanno fatto faccio una premessa prima di concludere questa serata ci sono alcune domande che ci vengono fatte dalle persone che ci stanno seguendo non abbiamo purtroppo adesso il tempo di rispondere però ci impegniamo a raccoglierle e poi a inviare le risposte al trade delle discussioni in modo che tutti le possano vedere insomma chiediamo ai nostri interlocutori e ai nostri interlocutori di rispondere successivamente alle domande che ci sono state poste io invece vorrei concludere sottolineando intanto una cosa che credo che sia evidente ma è bene evidenziarla cioè il fatto che le situazioni dei paesi europei in particolare dei paesi europei di cui stasera abbiamo parlato sono molto molto simili a quelli del itali problemi che le classi lavoratrici e i settori oppressi della società devono affrontare sono praticamente gli stessi come analoghe sono le reazioni delle classi dominanti dei rispettivi paesi la differenza come dicevo anche all'inizio è che loro in qualche modo hanno una discussione internazionale già più avviata si stanno confrontando stanno dibattendo su quali sono gli strumenti che meglio si confanno alla necessità per loro di uscire da questa crisi rafforzati e quindi in qualche modo con la capacità di mettere ancora più indietro i diritti sociali i diritti politici i diritti democratici delle popolazioni in particolare delle lavoratrici e dei lavoratori e dei settori oppressi della società ma ci sono anche dibattiti di grande spessore per esempio sulla questione della banca centrale europea se leggiamo i giornali della grande borghesia internazionale finanziaria come il Financial Times o come altri giornali per esempio anche il Sole 24 Ore in Italia che è il giornale della Confindustria si vede come c'è un dibattito avanzato su questo quale è il ruolo della banca centrale europea per esempio qual è lo scontro che adesso sta mettendo la corte europea contro la corte costituzionale tedesca che è un altro elemento di grosso interesse dal punto di vista del dibattito nelle classi dominanti che però ha molto da dire anche a noi rispetto a come si stanno provando ad attrezzare molto pragmaticamente anche rispetto a una fase nuova anche per loro l'obiettivo però è uno è quello che da quello che ci dicono i compagni e la compagna che sono intervenuti stasera e li accomuna tutte le classi dominanti europee e cioè quello di socializzare le perdite e privatizzare i profitti ancora una volta lo stiamo vedendo ma anche in Italia in cui la bulimia della confindustria senza limiti l'avidità della confindustria senza limiti il nuovo presidente Carlo Bonomi ha reso chiare il suo programma fortemente offensivo fortemente di attacco a diritti salari controllo delle condizioni di lavoro perché oltre il salario c'è qualcosa che forse la borghesia ancora più a cuore che è questo cioè il controllo del tempo delle condizioni di lavoro delle modalità dell'erogazione delle modalità di lavoro che è fondamentale questo è un attacco a tutto campo ancora ieri c'è stato un appello o l'altro ieri del Medef della confindustria e credo anche della confindustria tedesca in cui si diceva non c'è più tempo da perdere dateci soldi basta spese pubbliche improduttive e per spese pubbliche improduttive naturalmente si intendono tutti i servizi pubblici innanzitutto compresa quella sanità di cui gli infermieri credo in tutti i paesi in Italia ma anche negli altri paesi europei sono stati definiti eroi con una retorica che serve semplicemente a coprire la distruzione della sanità e delle condizioni di lavoro di queste lavoratrici e di questi lavoratori altro che essenziali più che essenziali si è visto benissimo in questa fase che i governi hanno fatto nel corso degli ultimi vent'anni e quindi proprio dalla sanità vorrei partire perché è chiaro che l'elemento che forse può caratterizzare accomunare le sinistre di classe le sinistre alternative le sinistre anticapitaliste in Europa è uno fondamentalmente cioè chi paga questa crisi a chi la facciamo pagare questa crisi siamo ancora noi noi classi lavoratrici noi classi oppresse che la dobbiamo pagare o sono quelli che hanno si sono ingrassati per vent'anni ed oggi vogliono approfittare per ingrassarsi ancora di più quindi le proposte insomma di tassa patrimoniale ma anche di una grande campagna per la ripubblicizzazione della sanità ma anche per il cambiamento del modello di sanità da un modello diciamo semplicemente di cura a un modello di prevenzione che è strettamente legato alla questione della difesa dell'ambiente cioè sono indissolubili ad esempio la medicina preventiva che è una medicina che naturalmente va contro la privatizzazione della sanità si lega strettamente alle battaglie contro la devastazione ambientale per un altro modello ecologico il Green New Deal ma non quello diciamo quello che l'Unione Europea vuole fare ma un vero Green New Deal cioè la riduzione dei consumi fossili far pagare le industrie fossili tanto per cominciare che è un altro degli elementi di battaglia concreta che può essere incluso diciamo in una campagna più complessiva soprattutto oggi che le convulsioni sul mercato del greggio stanno dimostrando l'irrazionalità estrema di quel modello oltre che la sua pericolosità già canclamata per l'ambiente e poi e quindi naturalmente significa anche chiaramente andare a capire chi finanzia quindi non solo farla finita col falso mito dell'indipendenza delle banche centrali che era un discorso che usciva tutto da una fase precedente quindi dalla metà degli anni 70 ma anche parlare apertamente di socializzazione del credito di nazionalizzazione dei sistemi bancari perché senza quell'elemento le nostre diciamo il resto è importante ma si priva di un'arma fondamentale quindi sono elementi che noi crediamo che un appello europeo sia necessario un appello europeo che non sia semplicemente declamatorio ma indichi degli obiettivi come dicevano i compagni concreti credibili per le classi lavoratrici credibili per le classi lavoratrici perché gli obiettivi che noi proponiamo anche più tra virgolette moderati non saranno mai credibili per la borghesia ma sono credibili per le classi lavoratrici mi ricordo che Ken Loach lo diceva questo il nostro programma è un programma che è realistico semplice credibilissimo per le classi lavoratrici di tutti i paesi sono gli altri che non ci credono e vogliono che anche noi ci crediamo e questo è un elemento che ci deve spingere oggi ancora di più a stringere rapporti a sentirci a coordinarci a capire quali iniziative comuni possiamo fare a partire ripeto da un appello diciamo su scala europea che può che può darci una spinta in avanti ma anche semplicemente a riprendere un rapporto tra noi che non è scontato e non è diciamo secondario anche per mettere in campo un elemento politico che si deve saldare naturalmente con le mobilitazioni popolari con le mobilitazioni dei lavoratori con le mobilitazioni dei quartieri popolari di cui per esempio ci parlava Flavia ma immagino che anche in altri paesi sono i settori tra i settori più colpiti non solo dal punto di vista sociale ma anche dalla repressione che diciamo si sta abbattendo su di loro per cui l'invito che io faccio e che noi facciamo è quello di continuare a confrontarci e mettere in campo appunto un appello che abbia degli obiettivi la patrimoniale o tassa Covid la questione della campagna della sanità la difesa dei diritti democratici che è un altro elemento fondamentale diciamo che attiene alla stessa agibilità della lotta di classi in tutti i paesi quindi facciamolo e facciamolo partire e allarghiamo anche il discorso a tutti quelli che hanno a cuore diciamo le condizioni di vita e di lavoro della maggioranza sociale del famoso 99% che diciamo anche sin dal movimento di Occupy in poi è stato posto come appunto una linea di fratture di confronto tra noi e loro quindi le ritte le borghesie le classi dominanti che oggi ancora una volta provano ad approfittare della crisi per avanzare nella loro agenda allora c'è bisogno di una nostra agenda una nostra agenda che naturalmente non può che essere in stretto intreccio contatto con le mobilitazioni sociali reali nella società certo oggi scontano una difficoltà in tutti i paesi ma c'è anche l'elemento dell'intervento soggettivo nostro che può in qualche modo provare diciamo a introdurre dei semi di consapevolezza degli obiettivi che possano in qualche modo dare una una prospettiva a a a a a larghe larghe masse in Europa abbiamo visto che ci sono oggi oggi si è aperta una finestra di opportunità che stanno provando a chiudere rapidamente ma si è aperta un elemento di anche minima consapevolezza che può essere allargato le brecce che ci sono dobbiamo aprirle c'è la possibilità di aprirle dobbiamo impegnarci a farlo perché non abbiamo nient'altro da perdere se non le nostre catene come diceva qualcuno e quindi come si diceva un tempo al lavoro e alla lotta cari compagni e cari compagni arrivederci grazie auguri siamo finiti ciao Flavia saluti saluti a Pietrice ciao ciao a tutti grazie